ferrari analisi mensile settembre 2020 allora anche questo titolo lo avevamo già visto qualche mese fa e proviamo a fare un aggiornamento appunto a settembre che è successo intanto facciamo un piccolo riepilogo sulle zone che avevamo identificato ok che sono già qui segnate abbiamo segnato il minimo della candela di marzo che appunto come abbiamo detto su tanti titoli fa un po da spartiacque ed è un livello grafico sicuramente degno di nota degno di nota anche diciamo preso singolarmente ma anche contestualmente a altri punti grafici raggiunti precedentemente come in questo caso vedete che la candela di marzo praticamente arriva fino a 114 e abbiamo qua questa questa piccola zona di equilibrio e poi abbiamo la candela di marzo 2019 che comincia a comprare di nuovo questi massimi quindi qui abbiamo un ingresso di compratori sicuramente importante dopo questa fase di indecisione di ritracciamento quindi qua sicuramente le posizioni vengono rafforzate poi il titolo parte quindi vedete che a maggio il titolo trova un diciamo un arretramento apre apre su 121 arriva fino a 114 proprio su quest'area di massimi comprati e poi riparte e marzo fa praticamente la stessa cosa addirittura guardate arriva fino sempre di nuovo su quest'area e tutta la candela di marzo praticamente viene riassorbita allora adesso nei mesi successivi abbiamo avuto un una serie di candele che non hanno comprato massimi vedete in area praticamente dopo la candela di maggio che arriva fino a 150 abbiamo una serie di candele che si spingono verso l'alto vengono respinte ma non comprano massimi di fatto poi arriviamo sui massimi assoluti perché con la candela di agosto abbiamo praticamente un recupero quasi totale del titolo che aveva appunto fatto registrare i massimi assoluti in area 169 170 e la candela di agosto di fa e anche questa di settembre di fatto testano l'area di 168 30 168 50 ora la candela di settembre ha un piccolo ritracciamento quindi ha aperto salita fino all'area di 168 e sta scendendo quindi bisogna capire quale sarà lo sviluppo siamo sui massimi non sicuramente zone idonee a entrare in acquisto long sul titolo se non per operazioni intraday di trading di brevissimo e non di investimento quindi direi di aspettare in ottica di investimento appunto un ritracciamento più consistente con la speranza appunto che questo ritracciamento poi di fatto avvenga come dico spesso gli indici mondiali in genere soprattutto quegli americani sono sui massimi e questi dettano un po l'andamento generale soprattutto poi noi come italia seguiamo abbastanza a ruota quelli che sono quelli che sono gli umori a stelle e strisce quindi niente ricapitoliamo ecco poi vedete che abbiamo quest'area segnata che va da 130 a 134 perché di nuovo qui guardate la candela di giugno 2019 non solo compra i massimi di maggio 2019 in maniera importante chiudendo praticamente sui massimi ma va a comprare anche i massimi di questo swing importantissimo che era stato praticamente il primo swing importante a livello grafico come potete vedere dopo l'enorme salita che aveva fatto da quando il titolo aveva cominciato a quotare quindi altro livello molto importante che viene comprato viene comprato in maniera importante quindi sicuramente questo livello di 130 a un livello anche questo da spartiacque molto importante e poi qui abbiamo tutti una serie di minimi che vedete che non riescono ad essere venduti in molti casi addirittura vengono comprati qui ad esempio a ottobre abbiamo un retrambe il prezzo che arriva fino a 130 poi viene tutta rimangiata la candela e poi addirittura abbiamo appunto la conferma che qui ci possano essere stati dei minimi comprati con la candela di novembre che va appunto al rialzo che dire niente un titolo molto bello un titolo che sarebbe stato molto bello avere in portafoglio fin dall'inizio credendoci forse era la cosa più intelligente da fare su un titolo che viene considerato automobilistico lusso insomma un titolo che è un proprio in questo caso più che comprare un settore si compra proprio si compra proprio e si crede proprio in un marchio ok quindi niente aspettiamo abbiamo questi livelli segnati che sono nell'ordine 130 135 130 sicuramente un livello molto importante la candela di marzo il minimo della candela di marzo che segna un altro livello di spartiacque 114 e poi abbiamo più in basso non dico che il prezzo arriverà 83 ho soltanto evidenziato le aree a scendere più importanti su cui intervenire 83 85 siamo molto distanti siamo praticamente al doppio quindi abbiamo però le indicazioni e i binari tracciati su quello che è diciamo un po l'analisi grafica sul titolo è chiaro poi che nell'ambito di operazioni di breve periodo si può scendere su time frame più bassi come settimanale o il daily e applicare gli stessi ragionamenti con un arco temporale di operatività più breve ok per quello che riguarda l'aggiornamento su race ferrari di settembre è tutto